Secilia, perché non parli più con Robby? Ci parlo, solo che frequentiamo ambienti diversi. Bella giornata. Ti piace il tuo libro? Preferisco Fielding in ogni caso. È molto più passionale. Ti posso dire una cosa? Una cosa veramente terribile. Non è possibile. Brian l'ha letta. Era quella sbagliata, non doveva leggerla nessuno. No. Cosa farà, Cecilia? Non lo so. È così da settimane. Tu sai di cosa sto parlando, vero? L'hai saputa prima di me. Perché piangi? Cecilia. Dovresti chiamare la polizia. Allora l'hai visto? Sì, l'ho visto bene. Briony! So chi era lui. Sai che era lui? Oppure l'hai visto? Sì, l'ho visto bene. L'ho visto con i miei occhi. Non crederei ciecamente a quello che Briony le ha detto. Ti amo. Torna. Torna. Torna da me. Ti aspetto. Torna da me. Io tornerò. Ti ritroverò. So che ciò che ho fatto è stato terribile. Torna. Io non lo so. Torna da me. 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 Grazie a tutti.